A Parallelo Zero facciamo fotogiornalismo e crediamo che le immagini siano il modo più efficace di rappresentare la realtà e di narrarla. Durante i mesi più bui della pandemia abbiamo svolto un lavoro di documentazione quotidiana di ciò che stava accadendo. Perché era nostro dovere farlo, per quanto mai ci saremmo augurati di essere chiamati a documentare una tale situazione qui nel nostro paese. Era nostro dovere fare sì che l'opinione pubblica, attraverso le foto o i film come Covid Hotel, ospitato qui al Festival della Diplomazia, capisse a fondo qual era la reale portata della calamità che ci stava affliggendo. Ma abbiamo realizzato quel lavoro e gli abbiamo dato una forma organica sul sito dedicato Covid Diaries, anche perché sappiamo che le immagini sono il modo più efficace di ricordare e Covid Diaries per noi vuole essere proprio questo, una scatola della memoria. Questo per noi è forse il ruolo più importante del fotogiornalismo, ancora più importante di documentare i fatti nell'immediato. Ci sono almeno tre validi motivi per ricordare. Il primo è per continuare a dare un tributo a coloro che in un passato recente abbiamo celebrato come eroi del momento, quando parlando dell'epidemia usavamo così spesso la metafora bellica. Dare loro un tributo per non dimenticare che esistono e quanto importante sia la loro presenza nelle nostre vite. Non solo nei momenti in cui si parla di trincee, di prime linee, di nemici invisibili, ma in ogni istante della nostra vita. Il secondo motivo è che i mesi di lockdown hanno reso ancora più fragili tante vite che lo erano già e hanno prodotto una nuova povertà ben più diffusa di quanto ci sembra di percepire guardandoci attorno. Abbiamo il dovere di non scordarci di quelle vite e ci auguriamo che le nostre immagini continuino a tenere d'esta la consapevolezza che esse esistono e che chiedono ancora aiuto. Il terzo motivo è lo stesso per cui abbiamo istituito una giornata della memoria dell'olocausto, un'altra dedicata ai caduti in guerra. Lo abbiamo fatto per non dimenticare ciò che siamo stati. Soltanto sapere cosa siamo stati e continuare a ricordarcelo può aiutarci a definire chi e che cosa vogliamo essere oggi, chi e che cosa possiamo diventare in futuro.